Chairete amici reggini, come vedete oggi vi parlo con l'acqua alla gola perché sono uno stupido e inqualificabile. Vi ho tediato qualche giorno fa sulla geminata potenzia senza rendermi conto che l'avevano già fatta e da qualche anno che mi interrogo scientificamente su come è possibile che il potere d'acquisto dell'euro si sia dimezzato nello spazio di un anno. Certo, me la sono sempre presa col governo Berlusconi, non aveva vigilato e così i commercianti avevano fatto quello che volevano. In verità non mi ero accorto che era tutta una manovra, nel senso che era già avvenuta che in quel momento il governo italiano aveva deciso di utilizzare la geminata potenzia, ovvero in Europa tutti sapevano e si era pure detto, mi ricordo le polemiche dell'epoca, che un euro valeva mille lire, ma loro, poi con questa scienza anglosassone, 1936,27, come se lo sapessero, come se fosse, vi devo dire, il colesterolo. Quanto è il colesterolo di Daniele? 187,2. Quanto è l'euro rispetto, quant'è la lira rispetto all'euro? 1936,27. Devo stare così teso perché se no finisco sott'acqua. E' terribile, in verità l'euro valeva mille lire. Hanno fatto la geminata potenzia, ma la geminata potenzia l'hanno fatta non come vi spiegavo l'altro giorno per aiutare le famiglie, l'hanno fatto soltanto per se stessi. Che hanno fatto quindi? Hanno dato un valore doppio alla moneta, i prezzi si sono immediatamente adeguati, quindi nello spazio di un anno questa finta valutazione è diventata quella vera, quindi siamo tornati a un euro mille lire, loro lo sapevano, lo sapevano perché molti economisti lo dicevano, ma dove ve l'avete uscito queste quasi duemila lire per un euro? Non esiste. Ma che cosa è rimasto fermo? Sono le famiglie italiane sono state rovinate all'epoca e non è bastato, perché adesso il Varesotto, il Varesino, hanno fatto un governo di Longobardi, ma manco Teodorico ha fatto un governo così Longobardo, almeno nel governo di Teodorico c'era Severino Boezio, c'era quel porco di Cassiodoro che con tutto quello che ha combinato pur sempre Calabrese era. Questo è un governo di Longobardi, non guardano niente. Mamma mia, la Fornero, credetemi, dal punto di vista accademico, mi fa cadere le braccia per terra. Comunque, il problema è questo. Il problema, amici miei, è che per capire la storia economica, e non capisco perché non lo dica nessuno, c'è stata la geminata potenzia quando è entrato l'euro, cioè hanno raddoppiato fittimaziamente il valore della moneta, ma i prezzi si sono adeguati al valore e quindi i nostri stipendi, che invece non si potevano adeguare, sono rimasti tagliati della metà. È quello che ha fatto Diocleziano, è quello che ha fatto l'imperatore Eratio quando aveva i persiani. Noi che persiani avevamo? Avevamo le orde fameliche di questa società che non fa altro che arraffare per comprarsi sub. Amici, siamo con l'acqua alla gola e purtroppo, come al solito, i problemi vengono da più lontano da quanto noi pensiamo. E opratte in finché si può. Arrivederci.